Mercoledì 9 dicembre 2015, ben trovati a Fatti e Misfatti, l'appuntamento, l'approfondimento giornalistico, targato, la Gazzetta del Mezzogiorno, Video Italia Puglia. Ci avviamo dunque verso la fine di questo anno, che tra alti e bassi sta appunto per lasciare il posto al nuovo anno. Come sarà questo nuovo anno? Ecco, è presto ancora per dirlo, sicuramente, e questa purtroppo è una certezza, si prospetta un 2016 difficile per numerose piccole e medie imprese televisive che rischiano addirittura in questo anno di chiudere completamente i battenti, con conseguenze drammatiche non soltanto in termini di lavoro, molti dipendenti, molti giornalisti, molti dipendenti rimarrebbero proprio senza un lavoro, ma anche in termini di informazione, ecco, il diritto all'informazione ancora una volta resterebbe scalfito. Di questo proprio parleremo quest'oggi a Fatti e Misfatti, vado subito a presentare i graditissimi ospiti di quest'oggi, abbiamo il presidente, il neopresidente dell'associazione della stampa della Puglia, Bepi Martellotta, che ringraziamo per la sua disponibilità, anzi mi sa che è la prima uscita forse ufficiale del neopresidente Martellotta, giornalista anche lui della Gazzetta del Mezzogiorno, abbiamo poi a seguire il presidente dell'ordine dei giornalisti della Puglia, Valentino Losito, ed è un volto comunque già noto per Fatti e Misfatti, e come sempre abbiamo anche una rappresentanza studentesca, in questo caso abbiamo degli studenti, alcuni studenti dell'indirizzo comunicazione del liceo classico Alfredo Riani di Corato, accompagnati da un giornalista, da Don Vito Martinelli, che è un docente del liceo classico di Corato, ma ha un trascorso anche da giornalista, e come sempre si dice, i giornalisti come i carabinieri non smettono mai di essere giornalisti, giusto? Bene, bene, consentitevi di ringraziare anche il dirigente scolastico del liceo classico di Corato, la professoressa Angela Aduci. Vado a presentare anche gli studenti, prima che dimentichi, Alessandro, Silia, Paola e Luciano, della terza D e della seconda D, proprio, dell'indirizzo comunicazione del liceo di Corato. Allora, iniziamo subito questa chiacchierata con il mio presidente Martellotta. Beh, qui possiamo darci del tu, visto che insomma siamo colleghi. Sono settimane veramente ad alta tensione, dicevamo prima il 2016 non sappiamo come si evolverà, certo è che 144 televisioni locali rischiano. Vogliamo un po' riassumere che cosa sta succedendo, perché si è arrivati a questo punto? Si è arrivati a questo punto per un duplice motivo, intanto il governo nazionale sta rivedendo un po' i criteri di attribuzione dei fondi e nell'ambito di questa revisione, come tutte le revisioni, ci sono anche dei ritardi nelle erogazioni, per cui il risultato è che gli attesi contributi statali che erano previsti per dicembre rischiano di slittare di qualche mese, parliamo per la sola Puglia di circa 8 milioni di Euro, quindi non proprio bruscolini, che darebbero una importante boccata di ossigeno a tutti gli emittenti privati, il risultato sarà che appunto questi emittenti privati dovranno chiudere l'anno, probabilmente in assenza di questi fondi. Ricordiamo che sono ben 31 gli emittenti locali pugliesi. Sono 34 per la precisione e tra l'altro questo slittamento sta coincidendo con la chiusura che è avvenuta lo scorso 3 dicembre, di un bando per l'accessione delle frequenze che è stato messo in piedi dal governo, dal Ministero, proprio per consentire ad alcune piccole emittenti di fare cassa cedendo la loro frequenza, in Puglia ne dovrebbero rimanere in totale soltanto 6 disponibili, che ovviamente saranno governate dalle grandi emittenti televisive, laddove le piccole vorranno continuare a sopravvivere e dovranno accodarsi a loro, diversamente dovranno cedere la loro frequenza e in questo modo incrementare la propria cassa, ma probabilmente non avere le prospettive a lungo termine. Quindi è un quadro particolarmente difficile per l'emittenza privata, non è un problema solo della Puglia, ma sicuramente la Puglia paga probabilmente lo scotto del fatto che per troppi anni si sono affacciati sul mercato tanti buoni imprenditori, ma anche tanti piccoli pirati che hanno deciso di mettere in piedi piccole emittenti televisive solo per fare raccolta pubblicitaria, salvaguardando il minimo indispensabile dell'informazione previsto dagli ordinamenti e di fatto adesso il mercato sta decidendo per loro che cosa deve accadere. Sicuramente, nella cosiddetta black list, nella lista nera, compaiono, sono finite 76 frequenze a livello nazionale, spalmate un po' in tutte quelle regioni che si affacciano sull'Adriatico, questo perché? Lo spieghiamo per i telespettatori, perché dopo l'assegnazione delle frequenze che avvenne nel 2011, se non sbaglio, da parte sempre dello Stato italiano, che cosa è successo? Che ci si è resi conto che alcune di queste frequenze andavano un po' a creare dei problemi, dei disturbi a delle emittenti presenti sull'altra sponda dell'Adriatico, quindi parliamo della Croazia, parliamo dell'ex Jugoslavia e così via. A questo punto il governo italiano è intervenuto un'altra volta dicendo che questi emittenti che creano disturbo vanno chiuse, ma nel frattempo è pur vero, si erano create intorno a queste frequenze assegnate dallo Stato, si erano create delle piccole e medie imprese televisive con ovviamente dei sacrifici da parte degli imprenditori che avevano messo su delle vere realtà, TV locali che comunque si erano affermate nel corso degli anni e che stanno dando lavoro a diverse persone. Ora, con questo nuovo, chiamiamolo così, diktat da parte del governo italiano, si andrebbero a chiudere queste emittenti televisive e il danno, potete immaginare, enorme sia in termini dicevo prima di lavoro, ma soprattutto, Presidente Lo Sito, per quanto riguarda il diritto all'informazione, ne uscirebbe ulteriormente scalfito. Sì, diciamo che questo è uno dei paradossi della globalizzazione, perché viviamo non nel villaggio globale che aveva proprietizzato McLuhan, ma probabilmente siamo già nel post-villaggio globale e parlavo di paradosso perché adesso rischiamo di sapere tutto quello che accade dall'altro capo del mondo, antes ci arriva direttamente a casa, ma rischiamo di non sapere quello che accade alla porta accanto. E quindi in questo senso abbiamo bisogno di una informazione glocale, che ci faccia abbracciare il villaggio nella sua interezza. Le realtà locali non possono che essere raccontate da chi vive in questi territori, da chi li conosce bene e che riesce a portare, come io spesso dico, alla luce quelle storie invisibili di cui è popolato soprattutto il nostro mezzogiorno, le nostre città, i nostri paesi. Ovviamente raggiungere questo equilibrio di un'informazione glocale non è facile, perché lo diceva adesso il collega Martellotta e anche noi come ordine spesso tocchiamo con mano questa realtà davvero spesso sommersa dell'informazione in Puglia, ci troviamo di fronte ad una vera e propria giungla che riguarda le televisioni, ma anche molta carta stampata, siti internet eccetera, nel quale è difficile davvero muoversi ed è non sempre facile distinguere il legale dall'illegale, perché ci sono molte situazioni borderline. Quindi io credo che la risposta, come dire, il governo con questa iniziativa dia una risposta sbagliata a un problema che però c'è, perché onestamente questo proliferare senza controlli e senza misure, di tante iniziative locali che poi, perché tu dicevi, perdono i posti di lavoro, ma in realtà molto spesso non si tratta di lavoro, ma diciamo di situazioni che diciamo abbastanza lontane da questa dimensione. Dopodiché quindi la frontiera è questa, riuscire a difendere il diritto, il dovere di informare di esseri riformati in una realtà diciamo assolutamente difficile, quindi salvaguardando però anche la legalità in tutti i livelli. Sicuramente, è pur vero che alcune aziende, questo voglio ricordare, ho visto che è cronaca di questi giorni, alcune aziende editoriali hanno già dito le vie legali, si sono rivolte ai tribunali per vedersi riconoscere i propri diritti. Certo è che l'Italia si trova in questo momento invischiata in un vero e proprio contenzioso internazionale, di cui guarda caso l'unico responsabile è proprio lo Stato italiano alla fin fine, visto che prima ha concesso delle frequenze e adesso le sta ritirando. Don Vito, allora ovviamente io ora sei qui anche, sia come nelle vesti di docente, ma soprattutto di giornalista, visto che anche tu hai lavorato in un emittente locale e quindi conosci da vicino cosa si fa in una televisione che opera sul territorio e quanto importante sia la presenza proprio di un emittente televisiva. Io non soltanto ho lavorato nell'emittenza televisiva locale, ma grazie a questo tipo di esperienza ho potuto poi sperimentare settori molto più ampi, quindi per me personalmente è stata un'occasione strepitosa e straordinaria. Credo che ancora prima che essere in questione l'aspetto legato al mercato dell'informazione, credo che sia in questione l'informazione stessa, la necessità di garantire questo diritto inviolabile, intangibile e permettetemi, inalienabile, non possiamo cedere questo diritto che è il diritto all'informazione, alle leggi del mercato e quindi è necessario che lo Stato intervenga a salvaguardare questo diritto dell'informazione. Credo che occorra salvaguardare l'editoria locale, l'emittenza locale, ma avendo a cuore il problema dell'informazione, in modo particolare l'informazione locale che non è un optional, non è un tassello giusto a posto rispetto all'informazione, ma è informazione a tutto campo. Sicuramente, lo stesso Presidente della Federazione, il segretario della Federazione Nazionale della Stampa, che voglio salutare, Raffaele Lorusso, anche lui pugliese, Doc, durante il congresso regionale dell'Asso Stampa che si è svolto a Bari nei giorni scorsi, durante il quale è stato eletto il nuovo Presidente, Bepi Martellotta, parlando proprio nel suo discorso iniziale, ha parlato delle serie di percussioni che proprio questa manovra avrà nei prossimi mesi, non soltanto sulle aziende, ma sul diritto all'informazione. Bepi, ma non è, durante quel congresso si è parlato anche di altri problemi che assillano un po' l'informazione alla nostra categoria. Il tuo compito, come dicesti proprio durante il tuo discorso di insediamento, sarà molto arduo, il tuo compito sarà molto arduo insieme anche agli altri organi statuari dell'Associazione. Quali sono i problemi maggiori che assillano insomma la categoria? Vogliamo dirlo un po' ai telespettatori? Sì, allora intanto va ricordato proprio a proposito del discorso che faceva prima Don Vito, che siamo in una fase un po' particolare, perché come sarà noto anche a molti telespettatori è in discussione una legge sulle intercettazioni che sta in qualche modo modificando anche il nostro mestiere, rischia di modificare il nostro mestiere e anche la percezione dell'informazione in Italia. La cosa più preoccupante di questa vicenda, posto il fatto che abbiamo avuto, abbiamo vissuto negli ultimi anni, a tutti sono noti le vicende di Berlusconi, i grandi processi che ci sono stati, le grandi inchieste, abbiamo vissuto degli anni un po' calli da questo punto di vista. Processi che poi sono diventati più che nelle aule di giustizia, si sono trasformati in processi mediatici. Appunto, e quindi era in qualche modo giusto che si intervenisse da un punto di vista normativo, nei fatti quello che sta accadendo è che però il Parlamento che aveva avviato una discussione su questa nuova norma, ha delegato il governo sulla materia, il che è un po' preoccupante, perché capite bene che se in ogni Stato il Presidente del Consiglio di turno, il dittatore di turno decidesse come deve essere svolta l'informazione in quel Paese, arriviamo veramente a un deficit di democrazia profondo. Quindi intanto da un lato generale del nostro mestiere c'è un problema che abbiamo davanti nei prossimi anni, che riguarda soprattutto i giornali della carta stampata, perché sono quelli che più di altri settori si occupano dell'informazione giudiziaria e sono quelli anche in qualche modo più esposti da questo punto di vista. Nello specifico, nella nostra regione viviamo i problemi di una regione del Sud in uno Stato di grande crisi, con una riduzione progressiva degli investimenti pubblicitari, sia sulla carta stampata che sull'emittenza televisiva, con il sistema dell'editoria che sta facendo i conti con gli ammortizzatori sociali, devo anche ricordare, ahimè, che anche il fondo sugli ammortizzatori sociali è stato bloccato o congelato dal governo e quindi abbiamo attualmente in tutta Italia 390 giornalisti che attendono di andare in prepensionamento e non possono farlo perché non ci sono più i fondi. Abbiamo diverse testate importanti, penso alla stessa Gazzetta del Mezzogiorno, ma anche al Corriere del Mezzogiorno, il dorso del Corriere della Sera, che hanno sottoscritto contratti di solidarietà difensiva proprio per tutelare i posti di lavoro ed evitare quindi che si andasse ad un progressivo precipizio, insomma è un sistema che sta progressivamente crollando. Mi permetto di dire, credo che in questi anni ci sia stata una profonda innovazione anche tecnologica nei nostri sistemi di informazione, riguarda sia le televisioni, riguarda anche i giornali della carta stampata, forse c'è stato uno scarso sforzo da parte degli imprenditori, degli editori, nel capire quale poteva essere il percorso giusto per affrontare la crisi, innovando i sistemi di produzione. Sicuramente. E questo ha comportato il fatto che, e chiudo, la grande bolla mediatica che si era creata sul futuro su internet, la diffusione di internet e delle informazioni online, in realtà poi si sta rivelando una bolla perché continuiamo ad avere un'editoria che riesce a raccogliere investimenti e quindi a coprire i propri costi soltanto sulla carta stampata e sull'emittenza tradizionale, non sui nuovi sistemi di comunicazione. Sicuramente. Quindi, come potete notare, tanti sono i problemi che un po' affliggono il nostro comparto, ma diciamo un po' in generale l'informazione. Penso che ci sia già una prima domanda da parte dei ragazzi. Prego, a chi la rivolgiamo? Allora, al Presidente Losito. Benissimo. Allora, Presidente Losito, poiché le emittenti private vengono inglobate nelle grandi emittenti, mi chiedo, poiché appunto i media hanno il dovere di informare, di comunicare, di mettere in comune le questioni, le problematiche che coinvolgono tutta la cittadinanza italiana, la cittadinanza Pugliese. Mi chiedo, l'atteggiamento critico, dove viene trascurato? In che modo le emittenti private, se vengono inglobate nelle grandi emittenti, possono esprimere la loro parola? La libertà anche. La libertà di parola. Ma mi chiedo, dov'è questa libertà? Dov'è l'atteggiamento critico, il pensiero critico delle emittenti. Il governo italiano, proponendo, divulgando questa legge, sta facendo di tutto per trascurare, per soppiantare per sempre le libertà di parola. E noi ricordiamo che ci troviamo in una democrazia, in un Stato democratico, non in una dittatura. La dittatura è finita da tempo e inoltre i nostri antenati hanno lottato, hanno gettato il loro sangue per esaltare la libertà di parola. Mi chiedo adesso, come dobbiamo ritornare al passato per riproporre questi valori, i valori che ora ci vengono tolti, ci vengono negati. In buona sostanza, che fine farà la libertà di espressione e di informazione dell'articolo 21 della Costituzione? Il discorso è ampio e lungo, la domanda è articolata. Intanto l'articolo 21 della Costituzione che garantisce la libertà di stampa, ma ha un respiro più ampio, in generale la libertà di pensiero e di espressione, che quindi non è in capo soltanto i giornalisti, ma a tutti i cittadini. L'articolo 21, il diritto di libertà di informazione, non è assoluto, perché intanto incontra nella stessa Costituzione i suoi naturali limiti, nel senso che il diritto dove rinformare deve andare a collimarsi con altri diritti ugualmente e costituzionalmente garantiti, quale presi il rispetto della persona umana, con tutti i diritti che sono seguiti in questi ultimi decenni, quello alla privacy, e addirittura ora si parla di diritto all'oblio, ma non vorrei scantonare. Dove finirà il diritto di critica? Infatti il nostro è un diritto dovere di cronaca e di critica. Tieni conto che questo attiene molto anche alla coscienza professionale dei giornalisti, perché nessuna legge per decreto potrà stabilire se un giornalista è più o meno libero. Spesso i giornalisti vengono a patte anche con la propria coscienza. e quindi non è un diritto acquisito per sempre e che nessuno può togliere o dare in assoluto. Il discorso che facevi tu e l'avevamo fatto già prima, è chiaro che tarpare le ali all'informazione locale vuol dire colpire in modo profondo quel diritto all'informazione che è proprio dei cittadini. Tu dicevi rischiamo in passo indietro. Anche in questo a me non piace ragionare per slogan, nel senso che quello che c'era dietro era tutto sbagliato, l'attualità invece è positiva. Per esempio, per dirtene una, a me piacerebbe per esempio che il servizio pubblico italiano televisivo, la RAI, tornasse un po' indietro, perché quando la RAI è nata nel dopoguerra e fino a metà degli anni 70, quando ha dovuto cominciare a misurarsi con la concorrenza con la TV commerciale, la televisione di Stato ha svolto un importante ruolo non solo di informazioni, ma anche di formazione, di pedagogia proprio dei cittadini, in questa Italia che diciamo che con fatica usciva da tutte le sofferenze del dopoguerra. E quindi pensando alla RAI, la RAI deve recuperare assolutamente questa dimensione di servizio pubblico, perché questa sì, la RAI viene pagata dai cittadini e quindi deve rendere questo servizio ai cittadini. Le televisioni commerciali, ci piaccia o no, devono essere capaci, il primo Don Vito, in questo rispondo anche all'osservazione di Don Vito, è vero, non è il mercato quello che può, come dire, dettare i tempi, l'agenda dell'informazione, e però diciamo, il ruolo del servizio pubblico, della RAI è quello di garantire questo dei cittadini. Le televisioni commerciali stanno sul mercato e devono reggere la concorrenza. Io penso che anche in realtà, come la Puglia, sarebbe importante da parte di emittenti televisive, anche il discorso di consorziarsi, di mettersi insieme, perché sempre in questo mondo globale non ha senso una televisione per ogni campanile. Adesso vedete anche a livello di geopolitico, parliamo in termini di città metropolitana, di consorsi di comuni, eccetera, che in questo dovremmo anche cercare di fare un salto culturale, di uscire dalla logica delle piccole patrie. Io stesso prima ho difeso la dimensione locale che è importante, però uscire da questa logica delle piccole patrie è cercare di portare in un discorso più globale. Dopodiché l'informazione locale va difesa. Io adesso pensavo, forse Bepi che ha seguito per anni le vicende della regione pubblica mi potrà confortare in questo senso. Credo che negli anni scorsi, durante una delle due giunte Vendola, il governo regionale è intervenuto a integrare, credo, gli stipendi dei professori in qualche forma, quando il governo nazionale aveva introdotto dei tagli. Ecco, in questo, la mano pubblica, la regione, ovviamente mettendoci alle spalle però assolutamente quei finanziamenti a pioggia che prima andavano a premiare buoni e cattivi, in questo senso la regione sarebbe cosa buona e giusta che andasse a sostenere quelle realtà virtuose però presenti nel territorio proprio per non lasciare sguarnito questa parte importante dell'informazione. Sicuramente. Ma torniamo ecco al problema con il quale poi abbiamo iniziato la puntata, questo pericolo appunto che incombe su tante realtà televisive locali. Cosa pensa la gente a tal riguardo? Qual è l'opinione del popolo proprio in merito? Savino Buonpensiere è sceso appunto tra la gente e ha ascoltato un po' di opinioni. Sentiamolo. Grazie Gianpaolo. I media locali vedono crescere il loro interesse poiché il contenuto del loro operato corrisponde il più delle volte ai bisogni, desideri e interessi dei singoli cittadini. Nonostante la crisi dell'editoria dove la sostampa cerca di difendere lavoratori e pluralità dell'informazione il compito quotidiano del giornalista non si ferma. Preferisci l'informazione sul web, leggere giornali, ascoltare televisione oppure? No, preferisco informarmi sul web e cercarmi da sola le informazioni e quindi perché comunque sono una persona in grado di capire ciò che mi interessa e di dare un giudizio, di scegliere quindi. Secondo te il ruolo del giornalismo locale è più importante di quello nazionale per i fatti di casa nostra insomma? Credo che possano essere messi sullo stesso livello. È importante sia informarsi per quanto riguarda ciò che c'è più vicino ma anche a livello internazionale. Uno deve essere informato su tutto per vivere al meglio. E penso che anche le varie Apple gratis, dei giornali non solo locali ma anche delle televisioni che ti danno spazio, delle informazioni, anche l'imprenditoria locale giustamente giornalistica sta avendo il suo ruolo con il crescere degli anni. Certo, tutto influenza la crescita e è giusto che sia così. Il ruolo del giornalista locale per lei è importante, ovviamente giornalista riferito al web, radio, televisioni? È importantissimo perché ci fa conoscere la realtà del posto e soprattutto ci tiene informati non solo delle cose che accadono in maniera negativa ma anche quelle positive perché ci sono da premiare le manifestazioni locali, non solo nel periodo natalizio magari far emergere queste realtà locali e soprattutto sostenere qualcosa di molto importante che può essere anche informare la gente che bisogna avvisare sempre l'ente preposto se c'è qualcosa che non va o qualcos'altro. Riferire sempre ai nostri assessori, al nostro sindaco. È molto importante l'informazione locale. Io attingo notizie da Corato Live ogni giorno per sapere un po' la realtà di Corato. Attingo notizie dalla Rai 3 quando vediamo il telegiornale locale per sapere non solo quello che accade a Corato ma in Puglia per sapere della nostra terra e chiaramente poi c'è sempre il fattore della TV nazionale che ci informa su tutto quello che accade sul territorio. Però è molto importante l'informazione locale per sapere cosa accade qua da noi. L'informazione locale, che quota vogliamo dargli? Sicuramente è una quota importante, dobbiamo essere consapevoli di quello che accade nel nostro territorio e quindi chi meglio dei media locali possono aiutarci a capire quello che succede ogni giorno. Ecco, la gente attinge più del solito le notizie a livello locale anche tramite web ma non solo, anche il giornale sia pure che il giorno dopo la notizia diventa vecchia però anche il suo ruolo. Sì, è chiaro che i giornali cartacei stanno perdendo un po' di terreno rispetto ai media online. Penso che debbano continuare a convivere entrambi perché c'è più approfondimento e più riflessione in un giornale che possiamo leggere tranquillamente a casa piuttosto che quello che in fretta possiamo vedere dal computer. Comunque sono importanti entrambi, sia quelli più veloci che quelli online, sia quelli cartacei. Io quotidianamente leggo sia la Gazzetta che i ben noti Corato Live, lo stradone.it e quant'altro, quindi sono tutti importanti. Che validità ha per lei l'informazione locale? Allora, molto importante perché in un certo senso aiuta appunto a conoscere principalmente il nostro territorio e secondo me dovrebbe essere in un certo senso anche un po' più... bisogna appunto sviluppare nell'ambito appunto corattino perché penso che a maggior ragione tra i giovani ci sia poca appunto informazione. Tu di solito dove attingi l'informazione locale? Tramite quale canale? Televisivo, radiofonico, web o...? Principalmente web. Tramite il web, social, tramite appunto i social principalmente. Se dovessi dare un voto da 1 a 10 all'editoria, non solo locale, anche regionale e poi più di tutto al ruolo del giornalista locale? Sì, non mi sbilancio perché appunto penso debba evolversi e dobbiamo appunto noi giovani essere molto più informati su vari aspetti. E con queste dichiarazioni io ti passo la parola, Giampaolo, a te e agli ospiti illustri che hai nello studio. Grazie Savino, questa era l'opinione della gente, della gente comune. Come avete potuto ascoltare, insomma, erano soprattutto giovani che ha intervistato Savino, i giovani sono coloro che attingono informazioni e lo hanno detto da internet, dal web, da internauti sono diventati infonauti perché tutte le informazioni proprio lo hanno dichiarato, le attingono dai social, dal mondo virtuale. Voi ragazzi so che avete preparato delle domande, altre domande per i nostri ospiti, ma voi per esempio, voi siete di un indirizzo particolare, della comunicazione, quindi siete i futuri giornalisti, i comunicatori, voi dove vi informate, attraverso quali strumenti? Penso che comunque il web giochi un ruolo molto importante nell'informazione in questo momento e penso che informarsi sia una priorità in questo senso, quindi attingere informazioni da telegiornali o comunque enti locali è importante per avere comunque un'interezza di informazioni su tutti i campi e quindi secondo me non bisogna soffermarsi sull'unico sbocco, quindi il web, ma anche leggere il giornale non fa mai male sostanzialmente, penso. Ecco ricordo una frase, Mark Prensky, uno scrittore statunitense, parlava di giovani come nativi digitali, perché loro, soprattutto i giovani e loro ne sono una testimonianza, attingono informazioni dal mondo del web. Presidente Losito, ma quindi è diventata la rete, è diventata la chiave di accesso per attingere informazioni? Certamente sì, lo abbiamo sentito sia nelle interviste che in queste brevi battute dei nostri giovani ospiti e il problema è di non sprofondarci in questa rete, non restarne impigliati più del dovuto. Ovviamente io parlo anche per ragioni anagrafiche, professionali, appartengo ad un altro evo mediatico per così dire, ma proprio nei giorni scorsi leggevo, credo, sull'inserto di Repubblica. Il ritorno del giornalismo lento, che è un'espressione che mi ha intrigato molto. Io credo che un po' tutti noi navighiamo a vista, nessuno di noi, neanche meno in questa fase, può porti come profese di un futuro che ci appare così nebuloso da essere indecifrabili, ma alcuni segnali che ancora una volta vengono da oltreoceano, dicono che probabilmente noi potremmo andare a meglio lungo termine verso un fenomeno di saturazione, diciamo, di questa iperinformazione. Perché credo che ci sia, ecco, possa avvenire poi, come dire, la nostalgia per una ricerca di senso, l'informazione ha senso, scusate il gioco di parole, se dà un senso alle cose, per esempio, pensiamo agli accadimenti di queste settimane, i fatti di Parigi, il web ce l'ha raccontato in diretta, avanzando la sesta televisione, ma se vogliamo, come dire, cercare delle mappe per muoverci in questo mondo nuovo, chi ce le può dare se non l'approfondimento? Io, come vecchio lettore, a volte che giornalista, la carta stampata, mi piace accumularli, poi mettere da parte gli articoli che più mi interessano. E ne ho ritrovati di 20, di un mese fa, ancora molto interessanti, perché se abbiamo bisogno di capire, oltre che di sapere quello che accade, di capire perché, io credo che in questo la carta stampata possa e debba svolgere un ruolo importante, ma lo stesso web, anche qui forse gira un luogo comune, perché buoni articoli di approfondimento, possiamo scriverli anche sul web. In questo dobbiamo, credo, un po' tutti noi fare una sorta di rivoluzione culturale. Oggi non esiste più, lo ha ribadito un giornalista importante come De Bortoli, non esiste più il giornalista della carta stampata, della TV, del web, devono esistere buoni giornalisti che debbano saper fare tutto. Negli Stati Uniti 10-15 anni fa si era proprietizzata la fine dei giornali di carta stampata, non è avvenuto, non è ancora avvenuto, probabilmente il futuro della carta stampata è nella free press, nel senso che saranno giornali distribuiti gratuitamente perché i costi saranno coperti dagli intrati pubblicitari, ma io credo che il futuro non è tutto nella rete, assolutamente no. Sicuramente. Bepi, Martellotta, parlavamo di informazione sul web, ma che notizie girano sul web? Questo bisogna anche chiederselo, proprio perché tutti si improvvisano giornalisti, tutti si improvvisano comunicatori e molto spesso mettono in rete notizie che si sono rivelate poi delle vere bufale, quindi che tipo di informazione gira sul web e come a sostampa, ma parliamo ora a livello anche nazionale, forse una deregulation occorre in questo senso? Allora, sicuramente, lo diceva prima Valentino, citando l'articolo 21, noi non dobbiamo mai confondere la libertà di opinione con la libertà di informazione, perché sono due principi assai diversi tra loro, l'opinione è giusto che la possano esprimere tutti, ed è quello che ahimè chiunque può fare cliccando 40 caratteri su Twitter o inventando qualcosa su Facebook, ma quella non è informazione però, l'informazione chi la fa? La fanno i giornalisti, ma perché? Perché i giornalisti sono quelli che vanno a verificare innanzitutto le fonti da cui attengono le notizie e quindi prima di diffonderle hanno quantomeno fatto un lavoro di controllo, di filtro che diversamente il web inteso in rete di massa non può assolutamente garantire, ecco perché da un lato non possiamo che essere soddisfatti del fatto di sentire i ragazzi che vanno a informarsi su internet e comunque cercano di capire che cosa accade nel mondo. Dall'altro dobbiamo preoccuparci però di quali informazioni loro raccolgono lì su quella vasta rete, ecco perché anche su questo, come posso dire, va fatta una battaglia nel senso di far capire ai cittadini che quando sono orgogliosi come gli intervistati dell'informazione locale, del fatto che riescono ad attingere notizie, devono sapere che dall'altra parte ci deve stare una realtà che si chiami redazione, che si chiamino giornalisti, che si chiami emittente radiofonica, che si chiami come la si vuole, che almeno quelle notizie le ha verificate, perché diversamente noi veniamo tempestati quotidianamente di bufale, ahimè in alcuni casi i social network sono serviti perfino a far sapere alle famiglie delle povere vittime delle stragi, che fine stavano facendo in tempo reale, cosa che non può garantire nessun altro sistema, nessun altro strumento di informazione, per carità se non è informazione quella ci mancherebbe altro, però dico stiamo attenti perché in realtà stiamo crescendo in una, come posso dire, in una cultura, in una conoscenza del mondo che rischia di essere assai approssimativa, soprattutto per le future generazioni. Giusto, ragazzi, prego. Io mi servisco nel solco delle opinioni dette prima, per quanto riguarda l'informazione e volevo aprire questa mia osservazione. Viviamo in un'età nel quale il politicamente corretto, ovvero diciamo, dove tutto deve essere, diciamo, trasparente alla luce del giorno, come è giusto che sia. E in questo, in questo, diciamo, metodo di vita, l'informazione si è denudata della, diciamo, dell'opinione, della quale, diciamo, i giornalisti, che i giornalisti prima esprimevano e, diciamo, con la quale formavano anche una certa opinione pubblica. Molti, diciamo, potevano essere anche politicizzati, altri, diciamo, potevano avere un proprio apparato critico e potevano creare anche un apparato critico, diciamo, in chi leggeva. Adesso si assiste, diciamo, a un fenomeno, diciamo, che è quello dei 40 caratteri, dei 400 caratteri di Twitter, nel quale, diciamo, l'informazione viene denudata dalla propria del proprio apparato critico e diventa praticamente un… rimangono solamente le 5 W, diciamo così, l'informazione in sé per sé. E questo riguarda anche, diciamo, sta riguardando anche il giornale cartaceo, quindi il giornalista a tutto tondo. Quindi si assiste a questo scontro, scontro in contro, tra queste due generazioni, che sono quelle, diciamo, del giornalismo, chiamiamolo antiquato, che personalmente preferisco, e quello moderno, che è un po' più, diciamo, snello, come ha detto Baricco nel libro I Barbari, più veloce, più, diciamo, semplificato, che lancia la notizia e poi lascia, diciamo, ai posteri l'ardo a sentenza, diciamo così. In questo senso potrebbe essere significativo anche il processo intentato a Henry De Luca per quanto riguarda, diciamo, l'opinione, l'opinione e l'informazione, quanto l'opinione deve essere separata dall'informazione e quanto, diciamo, serve a formare, scusate il gioco di parole, un'opinione pubblica? A tutte e due la domanda. Iniziamo con il Presidente dell'Ordine. Quelle domandine facili. Facili. Ma intanto, anche qui non ragionerei perché mi fissi, perché in 40 battute, la brevità di per sé non è un vizio sempre, l'essere prolissi non è sempre una virtù, parla uno a cui piace scrivere e scrivere molto, perché in 40 battute, non so, Quasimodo ha detto ognuno è solo sul cuore della terra ed è subito sera e ha scritto delle cose, una cosa, diciamo, interessante e magari ci sono libri sterminati che alla fine dicono nulla. Quindi anche qui, ecco, la capacità di esercitare non a tempo il nostro senso critico. E l'opinione, ma lo dicevo qualche attimo fa, il web, internet ci informa, dobbiamo trovare altrove fonti che ci formano, che ci fanno capire, che approfondiscono. Quindi questa è una scelta che facciamo noi come cittadini lettori ogni momento. Il mio pessimismo nasce dal fatto che, come dire, in questa evoluzione o involuzione per cui si è passati dall'homo sapiens poi all'homo videns, di cui parlava Chesartoni, e dopo l'homo videns, l'homo tecnologico, ma l'homo tecnologico ha nostalgia del sapere e non soltanto dell'informare? Ha questa nostalgia di capire in che mondo vive? Non lo so, ecco, questa è una domanda che, diciamo, possiamo continuare a girarci. L'informazione e l'opinione, ma intanto anche tutto è sempre opinione, perché già decidere di dare una notizia piuttosto che un'altra vuol dire fare una scelta, darla in un certo modo piuttosto che in un'altra scelta. Quindi è sempre molto difficile, come dire, separare l'opinione dalla notizia. C'era il famoso slogan del panorama degli anni Ottanta, di Lamberto Secchi, i fatti separati dalle opinioni. Io credo che in questo, anche come lettori, dobbiamo crescere molto come consapevolezza, come spirito critico e non può non avvenire, per esempio, io trovo sempre molto interessante, ho fatto negli anni scorsi delle letture di quotidiani in classe, perché soltanto frequentando poi i messi di informazione, a cominciare dai giornali, capendone anche i codici di lettura e di scrittura, che può nascere in noi una consapevolezza critica. Altrimenti siamo, ecco, veramente finiamo di restare impigliati nella rete, in quelli che qualcuno ha chiamato i giornalisti di passaggio, perché siamo passati dall'informazione frontale e una circolare, in cui poi, diciamo, la profezia, questa volta di Umberto Eco, ahimè ha ragione, quando dice che un premio Nobel e un imbecille hanno lo stesso peso nella rete. Quindi questa, come dire, questa crescita che ai giornalisti, noi giustamente si chiede il livello di professionalità, è una crescita a cui deve corrispondere una crescita anche del lettore, di non bere tutto quello che la rete dà. Io dico sempre, anche noi giornalisti dobbiamo portare nelle case delle persone notizie potabili, nel senso che la gente deve poter consumare, tra virgolette, perché le notizie sono a loro volta un prodotto, senza temere di restare truffati. Però anche da parte, proprio in questo cambiamento, in questa circolarità dell'informazione, cambia il ruolo del giornalista, ma deve cambiare anche quello del lettore, che deve aumentare la propria soglia, diciamo, critica. Beppe. Sì, l'ho detto prima a proposito appunto della distinzione, come giustamente era riproposta nella domanda tra opinione e informazione, ma aggiungo anche che è un po' una stortura di mercato un po' fastidiosa, dove le paga le tasse il signor Zuckerberg che gestisce Facebook quando raccoglie e diffonde informazioni nel territorio italiano? Dove le paga Google che fa informazione mettendo online qualsiasi notizia che possa venire fuori? Perché non invece mi pare che appunto in Italia le aziende editoriali italiane pagano le tasse, in Puglia questa emittente televisiva, come qualsiasi altro giornale, qualsiasi altra realtà, versa le tasse per la sua attività imprenditoriale, perché fare informazione anche è innanzitutto un'attività imprenditoriale. Perché lo è? Perché, come posso dire, per molti anni, adesso progressivamente sempre meno, poi spiegherò perché, per molti anni è stata un'attività imprenditoriale, perché l'editoria muoveva informazione e quindi creava opinione, spostava l'opinione pubblica. Se pensiamo oggi a quello che può riuscire a fare ancora del Corriere della Sera, probabilmente, non so se ridere o piangere rispetto a quello che il Corriere della Sera riusciva a fare dieci anni fa nel determinare l'opinione pubblica, ad esempio critica nei confronti delle istituzioni o dell'operato del governo, quando il governo nazionale non si comportava bene su alcuni temi. Oggi probabilmente questa influenza non c'è più e questo si traduce anche a livello locale, ovviamente nell'informazione che facciamo a livello locale, prima si parlava appunto di informazione critica, ma quanta informazione critica possiamo fare sulla Gazzetta del Mezzogiorno che possa spostare l'opinione dei tanti ragazzi che con l'informazione la vanno a vedere con un tweet? Online, infatti. Ne parlavamo anche durante il congresso, quando ci sono venuti a trovare i segretari regionali di CGL Cisle Will, al Presidente del Consiglio sono bastati 40 caratteri di un tweet per cancellare anni di negoziati del sindacato nazionale, dei CGL Cisle Will. Capite bene che oggi determinare l'opinione facendo informazione lavorata e corretta e con le modalità giuste, come posso dire, che il mercato ci richiede è diventato estremamente difficile ed è molto più facile, ahimè, con una frase, come posso dire, orientare un'opinione vasta da parte di tutte le nuove generazioni. Sicuramente. Don Vito, si parlava prima, il Presidente dello sito parlava di educare i fruitori dell'informazione, quanto è importante ora come educatore educare le nuove generazioni a fluire in un'informazione corretta? E' assolutamente importante soprattutto in questa epoca, si tratta di aiutare le giovani nuove generazioni, sì sì, assolutamente non semplice, si tratta di educare le nuove generazioni ad elaborare un pensiero divergente e critico, questo è lo sforzo che quotidianamente chi opera nel settore formativo deve fare e con cui quotidianamente si trova a fare i conti. Credo che ora più che mai sia assolutamente necessario raccordare l'informazione con stato di diritto, nuove tecnologie, deontologia professionale, mercato e deontologia del mercato, questo credo che sia assolutamente indispensabile, credo che sia la chiave di volta del problema, senza demonizzare il presente e senza esaltare il passato, sicuramente. Si tratta di guardare con occhi limpidi la realtà nella quale ci troviamo a vivere e impegnarci a trasformare i limiti in risorsa, questo credo che sia fondamentale. Un'altra domanda perché nel frattempo ci avviamo verso la conclusione. Sì, una domanda al Presidente Rosito. Quanto è complesso, quanto è complicato ora il ruolo del giornalista in una società comunque afflitta dalle problematiche che stiamo descrivendo oggi, quindi personalmente vi sentireste di consigliare alle nuove generazioni di svolgere questo tipo di attività professionale? Ma sì, perché questo è un mestiere difficile e complesso, ma questo lo sappiamo per contratto, diciamo, uno che voglia fare una vita semplice e comoda ti diriga da qualche altra parte, perché un buon giornalista sa di essere inserito nella complessità. Prima volta si diceva se vuoi fare questo mestiere, una delle prime cose di cui devi dotarti è un buon paio di scarpe, nel senso che poi devi stare per strada, devi andare sul posto, devi vedere le notizie, conoscere, verificarle, eccetera. Infatti uno dei rischi del web è che, come io spesso dico, non siamo più giornalisti, ma confezionatori di notizie, nel senso che confezioniamo comunità di stampa che piovono alla ben meglio sulla nostra scrivania e poi contrabandiamo quello come notizie. Quindi la complessità fa parte del DNA di questo mestiere, in questo senso. Ma lo consiglio sempre perché tra l'altro è verificato che più si sconsiglia un giovane di non fare il giornalista, più la passione cresce in modo assolutamente esponenziale. Quindi assolutamente sì. Solo, l'ho detto l'altro giorno proprio qui a Corato, abbiamo però il dovere di raccontare ai giovani e di non vendere illusione ai giovani, nel senso che oggi il mercato giornalistico è asfittico, però è sempre stato così, nel senso che poi alcune porte si chiudono e se ne aprono immediatamente delle altre. Bisogna però arrivare a questo mestiere attrezzato intanto di una grande curiosità, la capacità di stare in mezzo alla gente e soprattutto una grande oggi più che mai capacità di studiare e di informarsi. Perché c'è l'illusione, ecco in questo il giornalismo televisivo o quello dal web sono molto rischiosi perché si pensa che avere per le mani un microfono o una tastiera sia voglia di ripso facto fare giornalisti. Io non mi stanco mai di ripetere quello che un vecchio giornalista, quando io feci, ero anch'io a mia volta all'epoca aspirante giornalista e chiedi a Egidio Sterpa che era un famoso editorialista del giornale di Montanelli, mi dica tre cose che direbbe un giovane che vuole fare giornalista e lui mi rispose leggere, leggere e leggere, quindi vuole dire che chi ha la pretesa di raccontare il mondo agli altri lo deve conoscere molto bene. Dei giornalisti si dicono tante cose, per esempio che siamo i più enciclopedici degli ignoranti, nel senso che dobbiamo saper raccontare di tutto. In questa frase c'è un po' di verità perché il mestiere poi ti porta a saper scrivere una notizia di nera piuttosto che un pezzo di terza pagina, ma in un mondo di oggi in cui in questa informazione circolare il lettore ti controlla in diretta, per cui se scrivi una cregnaccia dopo 30 secondi viene segnalato, avere la capacità di un grande bagaglio culturale è importantissimo e il bagaglio culturale, ahimè, uno non lo può fare se non legge un po' di libri, un po' di giornali, quindi come vedete torna questa necessità di avere una memoria solida in un tempo liquido, qual è il nostro. Quindi abbiamo bisogno di scarpe buone, anche di un buon sistema informatico, ma sicuramente anche di tanta preparazione e riformazione. Noi giornalisti tra l'altro qua a BP ci avviamo ripeto verso la conclusione, dobbiamo guardare non soltanto i diritti ma anche i doveri, abbiamo tanti doveri, siamo circondati, lo sappiamo benissimo, da tanta superficialità, commissioni con la pubblicità, penso che una deregulation anche a noi serve, servirebbe, ma soprattutto il rispetto delle regole. Assolutamente sì, ma il problema è che tra l'altro la crisi sta ovviamente accentuando questi fenomeni, con Valentino abbiamo lavorato per tanti anni insieme, lui era il caporedattore mio alla Gazzetta, abbiamo lavorato per tanti anni insieme sulle ANSA, se penso ai livelli di autonomia che aveva l'ANSA fino a qualche anno fa e ai lanci che vedo adesso a proposito delle iniziative che fa il governo piuttosto che i ministeri, dai quali l'ANSA dipende perché ovviamente chiudendo il finanziamento pubblico rischierebbe di chiudere l'Agenzia Nazionale, questo ci dà il termometro di che cosa sta accadendo e di quanto sia difficile per i giornali, per le emittenti televisive, per tutti gli strumenti dell'informazione, conservare quel livello di autonomia e di autorevolezza che ti dà l'autonomia della professione giornalistica, perché ovviamente la crisi sta accentuando il bisogno di, come posso dire, essere, non voglio dire favorevoli, ma quantomeno non critici nei confronti dei propri investitori, che fare? Certo è molto difficile mantenere, come posso dire, saldo un percorso, io mi auguro che soprattutto i ragazzi che studiano comunicazione, che si vogliono affacciare su questo mestiere, lo facciano proprio, quello cioè di essere sempre rigorosi innanzitutto con se stessi, il dovere di questo mestiere nasce dal fatto che hai la responsabilità non nei tuoi confronti o nei confronti del tuo committente, del tuo direttore di turno o del tuo editore di turno, ce l'hai nei confronti innanzitutto di chi ti legge e di chi ti ascolta, che hai il diritto, come ricordavamo prima, addirittura per valore costituzionale, hai il diritto di essere informato, questo deve essere secondo me la barra di sempre, che forse può salvarci anche da questa profonda crisi dalla quale ci auguriamo di uscire quanto prima possibile. Visto che ci sono i Presidenti, c'è il Presidente dell'Ordine dei giornalisti della Puglia, il Presidente della Sostampa Puglia, sicuramente c'è la vicinanza da parte di questi due enti, di questi ordini nei confronti di tutte le emittenti televisive che stanno vivendo, lo dicevamo all'inizio puntata, dei giorni particolari, perché c'è proprio all'orizzonte questo come una spada di Damocle, la chiusura di queste realtà. Ordine dei giornalisti a Sostampa sicuramente se sono a favore, sono vicini a queste emittenti, in che modo state pensando di organizzare un momento d'incontro anche per ascoltare un po' le esigenze di queste realtà? Sì, nel senso che è un po' sulla nostra agenda, adesso vediamo infine d'accordo con il sindacato, appunto di creare un momento di riflessione, comunque credo che a livello di tavolo nazionale, che tenz'altro c'è, non sa più se ci saranno altri a livello regionale, io credo che il sindacato, altro canto il collega Lorusso si è già espresso in questi termini, non è con i tali lineari che situazioni di questo genere possano essere risolte, bisogna si adessi a tavolino, ragionare e a volte anche verificare caso per caso, perché il peso sociale di questi tagli è sociale intanto per chi ci lavora e il peso democratico per la carriera di informazione pubblica è così pesante che non ti può risolvere con un Twitter o con un tratto di penna, quindi senz'altro da parte sia dell'Ordine, della Sostampa c'è massima, vigilante e massima attenzione anche attraverso un momento di confronto pubblico, senz'altro. Io non voglio, come posso dire, fare annunci di date o di cose che al momento non possiamo dare, di certo quello che accadrà è che una volta che si sarà schiarito il quadro anche di questa operazione di cessione delle frequenze che probabilmente comporterà la chiusura di alcuni emittenti, io credo che sarà inevitabile, lo accennava prima Valentino, coinvolgere la regione e mettere in piedi un incontro con la task force regionale per capire se vuole continuare ad interessarsi di un sistema imprenditoriale che rischia di crollare, io devo ricordare che sono stati fatti i contratti di programma per salvare il distretto del Salotto, sono stati fatti accordi nazionali per salvare giustamente l'industria metalmeccanica tra Bari e la sesta provincia che rischiava di racollo, credo che sia indispensabile che come posso dire ci sia un impegno anche da parte delle istituzioni regionali nei confronti di un sistema editoriale che sta rischiando di crollare, devo ricordare che tra l'altro già con Raffaele nel precedente mandato della sua stampa mettemmo in piedi una legge di sostegno al sistema dell'editoria che fu approvata anche dall'ufficio di presidenza del Consiglio regionale che è rimasta nei cassetti perché ovviamente anche gli enti locali stanno vivendo la loro crisi con la ristrettezza dei vincoli europei sulla spesa e quindi l'impossibilità di trovare canali di finanziamento per questo tipo di norme, però ci dobbiamo sedere e ragionare di nuovo perché non è possibile abbandonare alla marginalizzazione un importante sistema imprenditoriale della nostra regione e dal quale come abbiamo ricordato in questa trasmissione dipende anche l'informazione dei cittadini, quindi dipendono i valori costituzionali. Indubbiamente. In conclusione c'è un'ultima domanda. Quanto è difficile e complesso per un giornalista riusci a continuare ad essere se stesso nel momento in cui deve confrontarsi con le richieste del pubblico e anche con il contesto in cui è costretto a vivere? Ecco, un'altra domanda che sicuramente ha bisogno di, non certo di una risposta a breve, però se siamo giornalisti dobbiamo condensare. Formazione continua, formazione continua, grande coraggio e vivere secondo me la complessità non come un problema, ma come un'opportunità. Il mondo è bello raccontarlo proprio perché è vario. Ovviamente è difficile fare il giornalista e il giornalista di inchiesta in un contesto come quello di oggi, questo non ce lo nascondiamo. Però paradossalmente le difficoltà dovrebbero fare aumentare in modo esponenziale anche il nostro senso critico e la voglia di continuare a fare questo mestiere. Bene, con questa risposta del Presidente dell'Ordine dei giornalisti della Puglia finisce questa puntata di Fatti e Misfatti dedicata all'informazione, al mondo dell'informazione, a questo pericolo che incombe proprio sulle emittenti locali e sull'informazione locale. Ringrazio Bepi Martellotta, Presidente dell'Asso Stampa Puglia, Valentino Losito, Presidente dell'Ordine dei giornalisti della Puglia, Don Vito Martinelli per aver accompagnato i ragazzi dell'indirizzo comunicazione dell'Istituto Comprensivo Superiore Alfredo Oriani e Tandoi di Corato, in questo caso siete del Liceo Classico di Corato. Ringraziamo anche la Preside Angela Adduci, a me non rimane altro che ringraziarvi e darvi l'appuntamento alla prossima settimana. Arrivederci! Grazie a tutti!